Ciao a tutti e a voi bentorni a tutti e siamo tornati qui su Kingdom Come Deliverance e vi ricordate dovevamo parlare con l'aspirante prete per sapere più che altro come entrare dentro al monastero vediamo un attimo chi è l'aspirante prete sarei tu, sarei tu, sarei tu o tu? Tomaremo a... Carl eccolo qua affanculo Carl mezz'ora che ti cerco sei tu Carl per caso? si c'è scritto si chiama Carl adesso è lui e se entraste nel monastero al posto tuo beviamo qualcosa insieme e possiamo parlare in prete penso che questo sia abbastanza contento e se stai scusami riusci a farlo da me in una forma come puoi ok va bene che problema c'è lo faccio lo faccio a bere voi siete manfred del tutore del giovane signore porto un messaggio dal padre del giovane signore questo non ci crederò mai ci lascerete parlare in privato posso offrirvi da bere you must have a mighty thirst waiting here with him for days just watching him get drunk and not having a sip yourself there's no doubt i'd enjoy a drink heaven knows i deserve it but if i dull my senses in the slightest that road will surely get up to me so let's drink together and if you start to feel unwell i'll keep an eye on it like you said you deserve some fun forget my rudeness but you don't look like someone i could trust i'll drink when my task is accomplished until then i have a job to do hmmm vorrei parlare con voi è un bastardo ci lascerete parlare in privato i would not if i put my guard down for a second he'll be gone i have to keep my eye on him ehm porto un messaggio dal padre ok potrebbe essere un po più difficile da quanto pensassi come cazzo me ne libero silenzioso come una mangusta un liceo uno però allora loro non ci so qui dentro perfetto quindi dovrebbero essere saliti in camera ok va bene quale camera questa intanto allora famo una cosa armatura salivamo tutto perché famo meno casino giusto ecco qua il rimandello è difficile ok proviamo a aprirle tutte e vediamo in quale stanza stanno steppine una puttana no ok attenzione entra dentro camera la mangusta no questo è il mastro da freschi no niente sicuro niente di questo richiedermi la porta scusi ho sbagliato stanza guarda sarà la stanza questa qua giù questa è la mia apri oh è aperta pure questa eccoli qua stordisci f f dormi 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 na 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 adesso adesso stordiamo anche lui f dormi dormi na 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 oh lo vedi saccheggia saccheggia allora lui ci dovrebbe avere madonna oh c'è la roba fa stampata ma costi un botto tu si ma non c'è quello che mi serve aspetta tanto saccheggio pure a te io so che cosa se coste quanto è l'amico tuo eh vabbè sblocca borsaro di manfred attenzione 50 monetone eh ma c'è tutta tutte porcate ce l'hanno eccola qua la missione al monastero grazie goodbye è stato un vero piacere raga io ho visto che ho aperto lì del coso che ve dico adesso andiamo a saccheggia pure quel poro mercante di là io so che voi vedrete poco che niente ma non posso accendere la luce perché attenzione si chiude la porta non si fa sentire stordisce la gente stordici goodbye anche a te goodbye oh lo vedi oh 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 è morto questo mi ho stordito troppo mi ho stordito adesso non c'è una lira è un poraccio andiamo un po' qui dentro molto difficile non gliela farò mai aprirlo vabbè noi ci proviamo sempre comunque allora uff signore no no questo non mi se fa però questo si questo è uno sguardo di Rodamo ok ruba che c'hai uh questo vale un bel po' di soldini questo pure cappello da mercante rosso bello si facciamo pure questo vale basta c'è una ria pezzette si ruba di tutto Harry richiude la porta e se ne va come se nulla fosse ragazzi chiudiamo la porta oggi gira brutta gente gira se fregano la roba ok adesso di buon mattino andiamo dai preti insomma che abbiamo la lettera d'ammissione siamo stati ammessi al monastero e niente adesso sarà come andiamo noi dentro il monastero fratello portinaio questo si chiama proprio così si chiama ragazzi non c'ha tipo fratac no questo si chiama fratello portinaio sono il novizio Carlo sono atteso bello sono Carl sono supposed to enter come un novice con l'armatura scopri chi è entrato in mostra prima di te si è obbriacato non riuscivo ad alzarsi comunque sono qui no ho scopri chi è entrato in mostra l'armatura mi ha dato i papi e mi lasciato a me la porta deve essere usato a questo non sono il primo novice qui ma io non sono molto considerato di lui è stato così hectato qui ultimamente novici arrivano uno dopo l'altro l'ultimo non aveva una lettera e tu pensi che il suo lato era fuori la forma che stava guardando su l'armatura tu lo non l'avevi senza la lettera tu non trovi questo sospicioso ma sente il culo si certo l'argomento dovresti ridurre di tutte le vostre possessioni vendite o dite o dite o dite donate them al monastero non potresti entrare in questo posto da le vostre prodotti in cui trovi monchi robi le vostre possessioni e vestiti in il habit poi potresti un po' while I go and see the prior to arrange matters for your acceptance strange feeling being without all of that I didn't realize how much I've grown used to it no aspetta oh ando me l'ha messe it's time for you to take your vows aspetta che sennò mi cazzo me la pigna you'd better get used to it you'll be wearing it for the rest of your life oh bello mio madonna non fa che mamma lea tutta roba all'inventario è che me me cazzo da ammazzo tutti i preti per ripiare la roba ci avrà avuto 10.000 monete d'armatura oh fregna l'è alta dai dai oh oh non guarda collocati tra la via che peccato se i capelli o chi cazzo è questo? ho quello di su e quello di... che buzza ma guarda lo storto dai e' un detacco dai e' un buon tà i tuoi spero quante buona la sorra assunta mi se e' un po' che c'è allora regà il pane l'abbiamo già preso per quando viene il pesce che stasera si divertimo eh tu porti il vino o tu la coca forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of saint benedict opus dei obedientia opprobria the service of god obedience and endurance of all discomfort these are the cornerstones and sucker of our order which on this day un po' che parole sa di tu però fa quello che non ti dico io e ti spacco il culo su sti per me domine secundum erdomium tum et vivam et non confundas me ab expectatione mea ma oh dai i canta burdu ah iè eh suschi per me domine secundum il cazzo sa di questo in loquium tuum vivam et et non confundas me ab expectati io ne me me a a accepti un new name brother gregor attenzione siamo fratello gregor wear it with honor welcome brother dai adesso con i festeggiamenti su fai del terreno i cioccoli come come brother i am antonius a novice like you i've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be eh grazie per avermi suggerito durante il rito thanks for helping me out during the ceremony i had no idea what i was supposed to do you don't know latin do you don't worry work in the scriptorium will teach you fast enough why exactly you here was it your choice or did someone force you to come allora attività giornaliere volevo diventare un monaco il monastero è il metodo più semplice per ottenere un'istruzione è una punizione è una punizione è una punizione vabbè si può evitare la visita is it all right if we don't do the tour i thought that since you're literally a complete novice you'd be interested to know what you have to do tomorrow but if you don't want to come with me i won't force you here's a letter from the prior with the daily schedule read it and observe it vabbè grazie a dir tutto darò un occhio da solo thanks for everything i'll look around myself are you sure it will make your life easier if i show you around otherwise tomorrow you'll be standing around staring like an idiot while everyone else knows what they have to do bene fammi strada forza fine then show me around tanto l'ho capito follow me closely i'll explain everything as we go allora regà momotro al modo dee prima di tutto dee capire chi è e soprattutto poteva un altro modo da ammazzarlo quindi vediamo se trova un attimo quell'altro indostano comunque intanto ho parlato con uno che mi potrebbe aiutare a primi diar dei grimaldelli vabbè questo è un altro novizio mi chiamo gregor sono un novizio call me siskin are you here with your own free will or is this a punishment although it's not important welcome to purgatory did you say purgatory you'll see soon enough soon enough questo non mi pare molto contento questa qui fratello che cazzo vuoi you were somewhere you shouldn't have been don't you know your place don't you know where you're permitted to enter and where your presence is forbidden eeeh accetto la punizione e che cazzo vuoi now show me what you have on you I must confiscate anything that's not allowed in the monster c'è niente che non ha messo monostero quindi non so per cazzo ma non mi stanno a buttare oh e dai che palle eeeh mo pure la croce che mi vuole da ammazzare qui dentro un gio quattro giorni mi ci fanno sta seeeh vabbè dai soprattutto servos novizio lucas secondo te c'ho parlato i'm gregor a novice i saw you at the ceremony i know it was hard not to notice you and you are lucas also a novice don't get upset but i don't want to talk to you i'm happiest alone parlami gli altrimenti dimmi qualcosa di te eeeh will you tell me something about yourself guy there's nothing i can tell you i mean where you're from what sort of life you had before that sort of thing i'm a novice and my monastic name is lucas nothing else matters hmm perchè non vuoi dirmi nulla come on there really nothing at all you can tell me i could but i don't want to i'm sorry i want to stay focused on work and prayer not on who i once was i never will be again what has been isn't important for us we cast the past aside when we walked through the monastery gates and took our oath never forget that ok vabbè perchè posso dire solo alla ricerca di pio adesso ero iudio e che cazzo mi dice there's something i should tell you something secret i'm looking for someone here in the monastery you're looking for someone but you're a novice aren't you i am a novice at least until i find the man i'm looking for why would you be looking amongst monks you know the laws of man aren't valid here in the cloister we're subject to divine law the law of the church i'm looking for a footpad who's hiding out here in the monastery he had a hand in raising the neuhof farm he's taken many lives i i heard something about that but why are you telling me all this because you could help me it has to be one of the other novices that can't be have you told the prior what are you going to do to this man once you find him gli parlerò poi si vedrà intendo ucciderlo non lo so ancora gli parlerò poi si vedrà then i'll see do you have any idea which of the novices could be the impostor i'm looking for i don't know and i don't care to know i wish you'd never told me now i won't be able to sleep at night secondo me è lui ho sbagliato addio penso che tu sia pio you're the man i'm looking for what are you on about you can't be serious i am your secretiveness the fact that you don't want to speak with anyone that you keep to yourself you're obviously hiding something but i i you're wrong you've made a terrible mistake i'm not the man you're looking for i'm not please don't hurt me lascia andare stai mentendo sei tu pio no stai mentendo sei tu pio you're lying you are pious a criminal in need of punishment saint anthony pray for me che cazzo questo perchè sta a fuggimo qui tutte che corrono ok forse ho sbagliato ma che cazzo salve signor priore le ha detto una cazzata nega tutto nega tutto che cazzata ancora dai ma sto farmi solamente via da quell'altro ma che cazzo ancora con sto segnala croce del culo mettetelo ma quante giorni mo' da fa di isolamento dentro sta grotta durante 24 ore e trotti coglioni mi sento di aver sfruttato del sumo rastro del merda cioè sto passando più giorni in galera che in giro ok ragazzone finalmente che cazzo la resta succede ho già detto che il mio figlio si tratta di questo ma una volta che ho ottenuto la mia mano con il cuore con il cuore con il cuore con il cuore questo plan asinino mi prenderò il cuore il cuore caldo il cuore è in un monastero l'insolence aiutare il fuori e poi pretendere di essere lui è sicuramente un incidente infortunato ma non c'è bisogno di una agitazione o profanità noi prenderemo di quello oh cazzo oh cazzo oh cazzo oh cazzo ok oh cazzo come l'ammazzo più io adesso no eh sì ok non c'ho armi non c'ho niente come l'ammazzo non fa il culo è da cagare tutti aia avanti puttana aia ma non c'è posso che figlio bastardo ah io sto stracco sì ma senza il motore questo mi fa un mare best ragazzi lo picchia oh ho iniziato spacca test ma che cazzo vuoi pure la guardia mi picco tutti bastardi ok allora raga mi sa che mi ha fallito sta missione via vabbè vabbè picchiatevi picchiatevi bastardo non voglio andare in camera ma il culo anche tu no curva ma curva ma hai detto curva ma hai detto curva madonna stai zardando ma tu start stai in saccheggia prende e lascia che cazzo sta succedendo accetta il carcere no con me non si scherza baby una missione segreta fallimento comunque faremo un attimo il caricamento e rivaremo la missione però prima di fare tutto questo scappa attenzione saccheggia prende e lascia attenzione chi è che comanda qui ti lascia jesus guardi palle devo ammazzare con passato ma che cazzo fai la mossa della gru tu come è la fai culo che cazzo le guardi ci so qui oh si tirano le frecce tra te loro figli di puttana mi ammazzano tutti mi ammazzano non mi ammazzano mai mai attenzione il sadico bastardo mi ammazzano tutti attenzione non vede più un cazzo si ribella la legge ecco lo sapevo che è stato un attimo comunque cazzo caricheremo la missione rifaremo tutta la missione del qui del monastero però questa volta cercheremo di stare un po' più attenti detto questo vi raccomando continuate a seguire la serie e condividete il video con i vostri amici per aiutarvi a crescere e non non dimenticatevi di mettere un bel mi piace detto questo sono tutti al vostro comando wolf ciao a tutti ragazzuoli ciao a tutti